Buongiorno a tutti e tutte, siamo ad Usini. Abbiamo chiesto ai nostri giornalisti e ai nostri redattori di trasformarsi per un giorno in creativi. Siamo nella nostra discarica, qui dietro abbiamo tutta la spazzatura perché noi, ricicloni, non buttiamo via niente. Abbiamo con noi oggi in studio... Daria Gnotelli e... Salvatore De Rosas. Hanno realizzato per noi... Un distributore di dolci, con uno scatolone tagliato davanti, ricoperto con del giornale. Abbiamo preso delle bottiglie, abbiamo tagliato il fondo e pitturandole abbiamo fatto delle ciotoline per quando scendono i dolci. E con questi tappi e tersivo abbiamo chiuso. Poi ringraziamo anche la nostra compagna del gruppo Alessia che ci ha fatto questa scritta. Com'è stata realizzata la scritta? È stata realizzata con delle cannucce. Com'è stato assemblato il tutto per reggersi? Cosa avete usato? Della colla a caldo. Proponiamo di mettere un distributore di dolcini davanti all'entrata di ogni scuola? Sì. Bene, noi continuiamo la nostra rubrica ricicloni con tutti gli altri progetti creativi. Da noi è tutto. Ciao! 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 Ciao!